lunedì 15 febbraio buongiorno e ben ritrovati buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che comincia come sempre con il calendario del giorno e il santo di oggi che è san anzi santi faustino e giovite il sole sorgerà le 7 e 10 e tramonterà le 17 e 40 andiamo sul sito della protezione civile delle marche il cielo sarà oggi sereno poco nuvoloso con qualche nuvolamento residuo nel settore meridionale nella prima parte della mattinata avremo temperatura in lieve aumento nei valori massimi stazionarie o in lieve diminuzioni invece le minime venti di brezza tesa lungo la costa moderato lungo la costa per la giornata di domani martedì 16 attenzione ancora le gelate stese gelate nottetempo il primo mattino anche oggi bisogna fare attenzione quando si esce perché c'è ancora la neve in alcuni punti il ghiaccio è presente ovunque siamo temperature sotto lo zero anche questa mattina dunque attenzione domani temperature ancora in diminuzione poi stabile sarà il tempo invece per i prossimi giorni allora la vl per partire con lo sport del lunedì che purtroppo ha perso ha perso a milano non c'è stato dunque il miracolo la vl crolla nella finale di coppa la fotonotizia sul carlino di pesaro è per la squadra che comunque dire pesaro che comunque è arrivata laddove nessuno si aspettava sicuramente ecco qua il titolo grazie ragazzi grazie grandi lo stesso la vl crolla appunto nella finale di coppa ma il titolo è per il primo caso di variante sud africana è un soggetto che ha viaggiato nel continente poi è rientrato nella provincia di pesaro rubino l'indagine adesso epidemiologica è attivata ma come vedremo la situazione nelle marche non è buona convento delle suore barricate ambientaliste non si deve abbattere l'esposto di italia nostra e poi il calcio sempre qua in prima pagina la serie c crisi vis e ora arrivano le corazzate poi sulla pandemia crescono i malati in terapia intensiva ci serve il plasma e in fretta è l'appello del primario poi l'intervista al vescovo di fano trasarti che rassicura i fedeli tanta stanchezza ma miglioro e sotto la doccia gelata sullo sci stagione ormai finite gestori dopo il nuovo rinvio del governo ma a san valentino ieri tanta gente a pranzo i ristoranti fanno il pieno c'è anche il box dell'amore da asporto il carlino di ancona la centenaria anti covid titolo della fotonotizia con questa nonnina di torrette che ha battuto il virus e ha festeggiato il secolo di vita spettro rosso invece è l'oreto in lockdown tutta la provincia di ancona oggi rischia la chiusura il sindaco della città mariana sospende le elezioni da martedì mentre il corriere adriatico anche qui apre con la fotonotizia della voelle sconfitta grazie lo stesso coppa italia milano troppo forte 87 a 59 questo è il risultato finale vedete in primo piano anche il sindaco di pesaro ricci che ha partecipato alla finalissima covid il giorno del giudizio la regione lavora a due ipotesi per ancona e provincia una zona rossa oppure una gialla rinforzata varianti oggi il confronto finale tra governo acquaroli ed esperti dell'istituto superiore di sanità per decidere il da farsi rivolta dei medici di base fateci vaccinare i pazienti e sempre da pesaro impianti chiusi rabbia per lo sci che resta vietato un palo della luce crolla sull'insegna dell'hotel ambassador e sotto isolamento del vescovo mi immagino la gente migliorano le condizioni del monsignor trasarti ma non sarà presente alla funzione delle ceneri e poi dal quartiere di fanno sant'orso sugli incidenti serve il limite dei 30 chilometri orari allora c'è questa purtroppo ipotesi tra l'altro non stiamo nemmeno messi bene per il fatto che la nostra vicina umbria la regione con la quale confina confiniamo non è messa affatto bene soprattutto perugia preoccupa e dunque si sta pensando di tutto di più per cercare di arginare questo questo questa salita di nuovo dei contagi e ci sono invece nelle marche due ipotesi per la provincia di ancona zona rossa oppure gialla rinforzata titola il corriere adriatico di questa mattina oggi c'è questo confronto tra il governatore e gli esperti dell'istituto superiore di sanità e si studia più o meno la chiusura dei confini del territorio d'orico e dei comuni diciamo più infetti acquaroli prima vuole la certezza che i dati però vengano scorporati l'obiettivo è quello di non far tornare le marche in zona arancione se si sta facendo più o meno di tutto questo perlomeno nei palazzi dove si governa evidentemente non si sta facendo la stessa cosa nelle case perché è lì che si decide se saremo rossi gialli verdi arancioni metteteci tutti colori che volete la politica può fare sì può fare quello che la legge la costituzione i poteri gli consentono di fare ma poi quello che conta in questi casi nel caso specifico della pandemia si decide nelle case di ognuno di noi ed è lì che dobbiamo mettere in campo il nostro dpcm privato se non facciamo questo non possiamo fare nulla se non andare proprio di nuovo alla chiusura totale al lockdown totale come vedremo tra poco chiede ricciardi lo ha chiesto ieri in una domenica dove ha spiazzato tutti ma questa purtroppo vista l'andamento potrebbe essere l'unica soluzione visto che gli altri noi siamo un po duri di comprendonio intanto speranza che vieta lo sci vedete da una parte c'è una voglia di tornare alla normalità ma di normalità è impossibile in questo momento parlare speranza che vieta lo sci a poche ore dal via la variante inglese troppo pericolosa il ministro sposa l'idea la linea del cts del comitato tecnico scientifico stop fino dunque al 5 di marzo non ci sono le condizioni per far ripartire il turismo troppi contagi da quel ceppo chiaramente quello che fa impressione in tutto questo che fa riflettere e che non si può chiudere o dire teniamo chiusi gli impianti semplicemente 24 ore come se si trattasse di un piccolo impianto da gestire parliamo di tutti gli impianti dell'italia e quindi farlo con 24 ore di anticipo mi sembra un po così non si capisce tra l'altro ci sono delle località dove già ieri approfittando anche del di san valentino molti alberghi erano erano già pieni perché oggi si pensava di riaprire gli impianti poi invece all'ultimo minuto si è deciso di chiudere quindi adesso cosa faranno tutti quelli che hanno pagato torneranno a casa evidentemente sì torneranno a casa però ecco per farvi capire insomma un po come stiamo navigando un po come stiamo andando speriamo che con draghi le cose cambino che sia un po più pragmatico non lo so francamente queste queste cose lasciano un po perplessi ma staremmo a vedere il comitato tecnico scientifico si è contraddetto scrive il carlino dopo aver aperto agli slalom sulla neve il governo si impegna a compensare al più presto le perdite con adeguati ristori ma questo ormai è una filastroca che abbiamo sentito ormai sentiamo ascoltiamo da un anno poi quando andiamo ad intervistare le persone che dovrebbero ricevere questi famosi ristori tutti si lamentano che hanno ricevuto soltanto le briciole intanto ricciardi dicevamo ricciardi sciocco ora lockdown totale a pagina 7 del resto del carlino di oggi all'italia dice serve un altro lockdown lo chiede niente meno che colui che è consigliere ministeriale del appunto ministro roberto speranza ministro della salute con l'attuale regolamentazione dice ricciardi l'epidemia non è infatti abbattibile ne è convinto le zone rosse migliorano dice quelle arancioni mostrano una stabilità dei parametri mentre quelle gialle peggiorano e andando avanti così sarà uno stilicidio dunque ricciardi non va giù tanto per il sottile e ha fatto arrabbiare ha fatto arrabbiare anche il leader della lega salvini che a un certo punto dice il segretario del carroccio rivendica tanti scienziati non la pensano però come ricciardi e quindi propongo dice salvini di metterli attorno ad un tavolo e discuterne resterebbe il problema però di chi fa gli inviti in sostanza insomma adesso bisognerà vedere se ricciardi che comunque resta consigliere del ministro speranza speranza che è stato riconfermato dal governo draghi e dunque vediamo se lo ascolterà oppure no intanto scrive sempre pagina 7 il resto del carino intanto a loreto nelle marche città simbolo della devozione mariana è in lockdown chiusi parchi e scuole per i troppi contagi e vicino a noi perugia purtroppo è come bergamo chiudere o sarà tardi dice stracci che è un epidemiologo necessario il blocco in umbre nelle regioni vicine allarme varianti si teme che l'ondata si allarghi alle marche e al resto del centro italia l'inglese questa è una scoperta forse sì ma forse lo sapevamo già l'inglese colpisce questa variante inglese colpisce in particolare i ragazzi e ce ne siamo accorti nel mese di gennaio questo se ne sono accorti a metà gennaio dove sempre in sempre in umbria a magione dove appunto a metà gennaio c'era un'incidenza molto alta di queste varianti sia insomma in quel periodo a metà gennaio iniziavano i cluster quindi focolai nelle case di riposo e in ospedale iniziò e schizzò anzi l'incidenza tra i giovani nonostante le scuole fossero chiuse o semi chiuse e quindi secondo l'epidemiologo questa variante inglese colpisce soprattutto i i giovani ma nella provincia di pesero è arrivata ahimè anche la variante sudafricana isolata su un paziente scrive il resto del carlino forse residente a pesero che ha viaggiato nel continente poi rientrato ed è stata già attivata l'indagine epidemiologica allora sotto parla il direttore della patologia clinica di urbino simone barocci che dice sappiamo poco sul potenziale di contagio gli effetti però non sarebbero gravi e poi sul chiudere province confinante con l'umbria direi che è una misura eccessiva questo dice appunto su quanto appena detto riferendosi alla pagina la pagina precedente il tasso di positività il 14,5 per cento due morti intanto nella nostra provincia si tratta di una donna di 80 anni di fano e di una di un 89enne di valle foglie quindi siamo a quota in provincia di peso urbino 829 decessi dall'inizio di questa pandemia intanto il primario del san salvatore di pesero michele tempesta parla di come siano purtroppo in aumento i malati in terapia intensiva colpiti anche i giovani ci serve subito il plasma il plasma iperimmune dunque bisogna donare questo plasma donare questo sangue il primario dice qui la guerra in corso il virus è aggressivo e non fa distinzioni di età abbiamo 41 posti letto di terapia intensiva ma anche tre ingressi al giorno per la prima volta vedo arrivare anche trentenni e quarantenni tanti ricoveri perché purtroppo non abbiamo ancora disponibili gli anticorpi monoclonali e l'intervista la troverete a pagina 3 del resto del carlino invece sul Corriere Adriatico vi segnalo un'intervista al dottor Roberto Antonicelli all'Inca di Ancona reparti covid che sono al limite e in aumento la richiesta di posti soprattutto dalle case di riposo il dottor Antonicelli che è il coordinatore delle aree dedicate ai pazienti positivi intanto preoccupa la variante UK cioè inglese stop allo sci fino al 5 di marzo speranza ha deciso dopo l'analisi del CTS il governo non apre gli impianti a pagina 6 del ancora del carlino questa decisione è un disastro il ministro ha rinviato di nuovo al 5 marzo l'apertura delle risalite almeno ci facciano sfruttare il rifugio per i turisti sotto invece vento forte sulla costa abbattuta all'insegna un'insegna ad hotel la pesante insegna dell'hotel ambassador di Viale Trieste a Pesaro finita a terra ieri mattina per il forte vento nessun passante è rimasto coinvolto questa è la fotografia ecco non so se riuscite a vederla vi faccio anche vedere ecco questa è la scritta vedete l'insegna che è caduta sopra alla tettoia di questo albergo poi dall'affano invece la quarantena del Vescovo Trasarti titolo del Corriere Adriatico immagino l'Eucharistia tra la gente migliorano le condizioni dopo il contagio il mondo è cambiato dobbiamo riconciliarci con il nostro tempo ritirato nel suo studio dell'Episcopio il Vescovo Armando Trasarti trascorre la sua quarantena dopo essere stato infettato dal coronavirus in un video di remato dal sito della diocesi appare in buone condizioni nonostante che avverta i sintomi provocati dalla presenza del covid ha detto sto benino ho ancora un po' di tosse avverto tanta stanchezza ma non ho più febbre e respiro abbastanza bene che mi lascia ben sperare per una rapida soluzione della malattia effetti più pesanti invece per il segretario Don Luca Santini in isolamento e degente a Fratterosa intanto Foghetti scrive non sarà presente il Vescovo alle Ceneri che danno inizio alla quaresima al suo posto presiderà Don Marco Presciutti intanto invece a Cagli c'è il funerale ci sarà oggi il funerale alle ore 15 al Duomo di Don Gilberto morto sabato a 82 anni discreto, silenzioso come la neve il nostro caro Don Gilberto è entrato nella vita piena per congiungersi a Gesù nella liturgia del cielo con queste toccanti parole sabato, sabato sera i confratelli della parrocchia del Duomo hanno annunciato la morte di Don Gilberto Ciaruffoli da più di un anno lottava contro un tumore anche il resto del calino a pagina 7 parla dell'agenza del Vescovo a casa in episcopio il Vescovo Trasarti rassicura sto benino il prelato parla ai fedeli della diocesi tramite una video intervista non ho febbre, solo un po' di tosse e tanta stanchezza è una sensazione strana, dice quella di non poter celebrare la messa tra il popolo e sotto l'addio a Don Gilberto Ciaruffoli cagli in lutto per il prete buono le parole commosse del parroco della cattedrale non è riuscito ad arrabbiarsi, nemmeno con la malattia a Sant'Orso, un quartiere di Fano stoppa le strade pericolose titolo dal Corriere i 5 Stelle, limite i 30 e multa Velox pedoni ciclisti investiti il gruppo consigliare evidenzia le problematiche in via Soncino e indica i correttivi l'assessore Tonelli annuncia una campagna di rilevamento di flussi del traffico le nuove arterie inducono i residenti di Bellocchi ad individuare vie alternative e poi il canto ventunesimo dell'inferno tradotto in dialetto fanese e al Bianchini si presenta l'opera di Enrico Tosi che va dal 1347 al 2017 si parla di questa seconda edizione che il Circolo Bianchini ha prodotto per i suoi associati e che trasmette attraverso Fano TV tra l'altro vi ricordo che stasera proprio a proposito di questo ventunesimo canto dell'inferno questa sera alle ore 21 proprio sul canale 17 andrà in onda dopo il telegiornale appunto questa sera allora stasera c'è l'evento del carnevale sì invece il Circolo Bianchini lo mangia in onda domani sera ok quindi stasera c'è l'evento del carnevale sul ventunesimo canto dell'inferno ok il carnevale digitale e invece il Bianchini quando va? domani sera domani sera benissimo grazie a Riccardo della regia anche per queste informazioni palo della luce crolla sull'insegna dell'hotel dopo la neve il ghiaccio anche qui un'altra fotografia e un po' riepilogo di quello che è il stato questa veloce ondata di maltempo che ha portato la neve anche sulla costa dopo la neve il ghiaccio ieri forti raffiche di vento hanno abbattuto piante e rami tanti interventi dei vigili del fuoco il lampione ha divelto anche la targa dell'ambassador poi sotto la sicurezza a Pesaro bene la telecamere Capuccini ma l'intervento è ancora lontano Valcesano invece siamo a San Lorenzo in campo in Viale Regina Margherita nuova segnaletica verticale si procede anche con la nuova illuminazione e l'arredo urbano il sindaco dell'Onti fa il punto sotto invece borracce difettose il sindaco di San Costanzo perde la pazienza si scusa per il disguido e accusa la minoranza di strumentalizzazione a Senigallia mai più tragedie come a Corinaldo la strage ora diventa un manifesto accordo tra il sindacato dei locali da ballo il comitato dei genitori per il divertimento in sicurezza nelle discoteche di tutta Italia dunque le discoteche d'Italia pronte ad aderire a questo manifesto del divertimento in sicurezza al fianco del COGEU e insieme chiederanno che l'8 dicembre diventi la giornata nazionale della musica è stato un incontro decisivo che segna un passo importante quello che si è tenuto a Roma giovedì scorso nella sede della federazione appunto dei locali nella ConfCommercio alla presenza del presidente Maurizio Pesca e tanti altri soggetti insomma questa è la notizia comunque importante che serva speriamo per sensibilizzare soprattutto i giovani e non solo fidanzati multati nella notte di San Valentino sempre a Senica anzi a Corinaldo hanno violato il coprifuoco lui era ubriaco poi alla guida altra sanzione invece a Ostravetere per quanto riguarda lo sport la pagina principale ovviamente è per la VL una VL purtroppo scarica Milano si prende la Coppa Pesaro paga la stanchezza l'Olimpia è devastante partita senza storia ma i biancorossi tornano dalla Final 8 con un pieno di certezze il risultato finale per la cronaca è 87 per Armani Milano contro 59 della Carpegna Prosciutto comunque sia alla fine insomma è stata una bella soddisfazione l'Armani fa valere stazza fisicità e rotazioni da Euroliga impossibile resistere ma Repegia l'allenatore che non ama perdere però insomma diciamo che il miracolo l'ha già fatto Repegia ecco la strada per crescere il coach fa i complimenti ai suoi anche se perdere non mi piace mai dice e guarda al futuro il budget limitato non sia una scusa noi molto attenti ma la partita è stata condizionata dalla loro stanchezza e adesso poi ne troverete quattro mi pare di pagine sul resto del carlino di oggi così come sul Corriere Adriatico sul Corriere però andiamo a vedere la pagina di Fano del Fano anzi dell'Alma Juventus il Fano che corre però un bel rischio la gara di mercoledì con il Cesena potrebbe essere rinviata per il Covid dopo quella di Imola saltata per neve i Granata potrebbero ritrovarsi a giocare ben nove partite in un mese tra turni infrasettimanali e vari recuperi le parole del DS Traini che dice stare fermi di nuovo vorrebbe dire perdere il ritmo non il massimo per noi che siamo in fase di rimonta destro l'allenatore dovrà rinunciare a Atley, Nepi, Urso e altri insomma anche domenica a Manto e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle ore 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci